L'abbiamo detto in apertura, è necessario un intervento radicale che rivoluzioni la condizione del sistema sanitario regionale. Ce ne parla nel servizio Maurizio Ciotola. Il degrado della sanità in Sardegna è percepibile da chiunque in modo diretto, quando per qualsiasi necessità deve rivolgersi alle strutture sanitarie. Il fatto che questa anomalia sia formalizzata dall'assenza di una trasparenza della gestione economica delle ASD in particolare, come emerso dal colloquio tra la Regione e il Ministero delle Finanze, costituisce un consolidamento formale di una cattiva gestione ai limiti dell'ecito. Se formalmente i dirigenti delle ASD non possono essere rimossi di fronte a queste loro inadempienze con cui hanno messo le pubblicazioni dei bilanci delle aziende da ben due anni, siamo di fronte a un problema di metodo cui le norme avvallano a discapito dei cittadini, nonché utenti del servizio. È chiaro che i direttori generali delle ASD hanno un'evidente responsabilità in questa mancata trasparenza di gestione. Qui si somma l'inefficienza dell'offerta dei servizi che inducono i pazienti a non curarsi o, se possono, a rivolgersi in via privata alle strutture sanitarie non pubbliche. Qualche mese fa, alla stessa Regione, fu di fatto in soldoni contestata la possibilità di elevare il budget di spesa nei confronti dei servizi offerti dalle strutture private in convenzione. Per cui, agli utenti non rimane che attendere i mesi per una visita di controllo e cura, oppure rivolgersi alle strutture private a pagamento, avvalendosi, per chi li ha, dei rimborsi individuali offerti dalle assicurazioni. Nel discorso programmatico, la Presidente ha annunciato timidamente una riforma delle ASD e delle strutture di eccellenza. Capiamo che dopo due mesi non è possibile vedere gli effetti, ancorché iniziali. Ma abbiamo necessariamente il diritto di vedere un'alba di tale cambiamento, altrimenti ben venga il commissariamento.